Questa è la cantina con tutta certezza del mio bisnonno, Giovann Maria, che è deceduto negli anni 40, ma con tutta probabilità era anche la cantina di suo padre, quindi del mio trisnonno e del mio quadrisnonno, questa qui è una casa molto molto antica. Il mio bisnonno d'inverno, quando la campagna era ferma, c'era la neve, per sbarcare il lunario e per guadagnare quattro soldi, si recavano in provincia di Vicenza a fare i norcini, erano dei norcini specializzati, infatti questo risponde alla verità e realtà che a Cortello, a Cortello anche nelle sue frazioni, negli anni nel 700, nell'800, ma sicuramente anche prima, e l'attività dei norcini era molto molto ben radicata e diffusa, tant'è che d'inverno si recavano e migravano nelle pianure a fare i maiali.